Sono qua in sostituzione del mio presidente di federazione, dottor Roberto Gasperoni, che oggi è impossibilitato. L'intervento è stato mirato più che alla diffusione di dati tecnici, è stato mirato più alla diffusione di una necessità di interprofessionalità, di costruire dei team che possano produrre un prodotto che sia efficace dal punto di vista prestazionale ed economico. Fermo restando che il verde, il verde urbano, ha una quantità di valori che spesso vengono sottovalutati e anche in questo caso il fatto che l'eco bonus contempli anche il bonus verde è già un piccolo inizio. La necessità di avere quindi una trasversalità che oggi a tutti gli effetti spesso latita e quindi sia doverosa una sorta di, virgoletto il termine, predicazione all'interno di ambienti che sono forse inusuali per le platee.